Buon poveriggio a tutti ragazzi miei belli, allora da dove partiamo? Si dice che è stata fatta la prima offerta ufficiale da parte del Manchester United per André Onana La prima offerta ufficiale è di 40 milioni di euro, ovviamente l'Inter non è assolutamente d'accordo Quindi ciao, saluti e baci, o aumentate l'offerta o Onana resta all'Inter, cosa che io spero vivamente e sentitamente Detto questo il Manchester farà un'altra offerta nei prossimi giorni e alzerà l'asticella Si dice che l'Inter non si sieda se non per almeno 50 più bonus Quindi si arriverebbe circa a 55-56 milioni di euro, scusate, per me è poco, per me è comunque poco È assurdo che un Allison si vende 70 milioni di euro e poi un André Onana che è arrivato in finale di Champions League Fortissimo venga svenduto a 50 milioni di euro più bonus, secondo me, è un mio parere ovviamente Per quel che riguarda il centrocampo, si è parlato tanto di Frattesi, Carnevali ha incontrato i dirigenti dell'Inter Si dice, almeno Gianluca Di Marzio dice, che oggi incontrerà i dirigenti del Milan A dire di Carnevali i dirigenti del Milan non li ha mai incontrati, non hanno mai richiesto Frattesi Non so se qualcosa è cambiato oggi, evidentemente qualcosa è cambiato oggi Per quanto mi riguarda Frattesi è un ottimo giocatore Un ottimo giocatore e ha una prospettiva validissima Può diventare veramente un grande campioncino Ma ad oggi bisogna vedere con le maglie che contano ma che hanno un grande spessore O vederlo per esempio con una maglia dell'Inter a San Siro Quella è tutta un'altra cosa, quella è tutta un'altra storia e bisogna vedere un attimino 40 milioni ad oggi, secondo me è una valutazione troppo alta Ma alta anche per il fatto che Carnevali aveva già parlato con l'Inter Era già promesso sposo dell'Inter, Frattesi, ma ad altre cifre Ora che lo hanno pompato alla grande, probabilmente il Sassuolo ha strapagato i giornali O gli addetti ai lavori per far sì che questo ragazzo si pompasse alle stelle E fosse richiesto da tutto il mondo E quindi Carnevali ha aumentato la cifra, ma non di 2 milioni, di 3 milioni Ha aumentato la cifra di 15 milioni di euro Una cosa indecente secondo me, una cosa assurda Sinceramente capisco tutto, capisco tutti i giocatori validi Però non dimentichiamoci che Locatelli al Sassuolo era un mito E è arrivata la Juve, non ha dimostrato di essere tutto questo grande campione Detto questo ovviamente Frattesi è tutta un'altra pasta Frattesi è forte, perché io questo ve lo dico Con tutto che potrà non venire all'Inter Per me Frattesi diventerà uno dei migliori centrocapisti in Italia Vedete se non ce lo fregano l'anno prossimo o fra due anni E niente, l'Inter praticamente ha dirottato le sue intenzioni su Aspetta, come si chiama questo? Masardic, Madarsic Una cosa del genere comunque, dell'Udinese Mardasic, sì, dell'Udinese 21 anni, tedesco, di nazionalità tedesca Grandissimo tecnico, un giocatore fortissimo Di una tecnica, la palissiana Perché è tecnicamente forte Diciamo che può giocare da trequartista Ma può fare anche la mezzala Cioè ha dimostrato con l'Udinese di poter fare entrambe le cose In questo caso lui verrebbe comunque a fare Credo la riserva Non sicuramente a Cialanoglu Che prenderà il posto di Brozovic Ma bensì a Varela o a Mkhitaryan in questo caso Perché sicuramente Cialanoglu prenderà il posto di Brozovic Aslani deve avere più possibilità di giocare Sicuramente Varela è una certezza Mkhitaryan non potrà giocare tutte le partite Per forza di cose E quindi ovviamente questo ragazzo Questo 21enne dell'Udinese Potrebbe fare al caso nostro Nel caso in cui però Sono tutte trattative in corso Che potranno trasformarsi Potranno concretizzarsi O anche no ragazzi Perché questa è la verità Purtroppo il calciopercato è anche questo Oggi c'è un giocatore per l'Inter Domani ce n'è un altro Ce n'è un altro in poll Per Lukaku sapete benissimo Che l'Inter sta facendo di tutto e di più Per riportarlo entro il 20 luglio Perché è fondamentale ragazzi Qualora tu riuscissi di nuovo a riprendere Lukaku Che deve essere ad appiano gentile Assolutamente a disposizione di Inzaghi Quando e non dopo Che inizia la preparazione E sappiamo tutti il perché Punto stop Ci sono tante voci Ci sono tante cose Ci sono tanti bla 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 L'unica vera certezza ad oggi È che potrebbe partire soltanto Onana ovviamente Cosa che io spero ovviamente Vivamente di no Romero che c'è? E quindi mi auguro di no Però se pensiamo al mercato in entrata Senza la vendita di Onana Poco puoi fare Ma a me sinceramente Con un innesto a centrocampo Un altro innesto a centrocampo È un buon Un buon laterale sinistro Un buon laterale destro Scusate Io sarei a posto Io non venderei neanche Gosens A questo punto Perché poi ne devi comprare un altro Ovviamente E quindi diventerebbe tutto un po' Un po' un casino Motivo per il quale Secondo me Onana se ne andrà A una cifra Che si aggira Intorno ai 50 milioni Più bonus Perché se no Non puoi fare acquisti La realtà è questa Poi si può parlare di tutto Sento sparlare Zhang Sento insultare Zhang pesantemente Ma la realtà È che Zhang Zhang ci ha portato di nuovo A vincere dei trofei Zhang ti ha portato A vincere di nuovo lo scudetto Dopo tantissimi anni Cioè non voglio dire neanche il numero Perché veramente È assurdo Se ti chiami Inter Zhang ci ha riportato dei trofei Zhang ci ha fatto rigiocare Una finale di Champions League È vero che Zhang Ad oggi Anche io Vorrei che Cedesse l'Inter Abdi casse Desse la sua corona E ciao Al pupo E buonanotte al secchio Anche io lo vorrei Però Massacrarlo Insultarlo Pesantemente Secondo me È una indecenza Secondo me Poi ragazzi È chiaro che anche io Ad oggi Voglio che Zhang Faccia le valigie E venda l'Inter Perché una situazione del genere È improponibile Non si può più pensare Di continuare così Tutti gli anni Anche perché poi Tutti gli anni Tutti gli anni Poi va a finire Che diventi meno competitivo Rispetto a quello che è Però Buttare del fango Insultarlo Pesante Secondo me È una cosa ingiusta Che non va fatta Perché bisogna dare i meriti A questo A questo presidente Che se non fosse stato Per tutte le restrizioni Cinesi Che sono successe Zhang è arrivato all'Inter Come uno dei più ricchi Non dimentichiamoci Che anche gli altri Devono fare cessioni Per poter acquistare E non dimentichiamoci Anche che La Juventus Ha preso Locatelli In tre Comoderate In tre stagioni Lo sta pagando E finirà di pagare L'anno prossimo Cioè Non è che è solo L'Inter Che è combinata così Sì è vero Che l'Inter Secondo me Da un punto di vista Manageriale Nel senso Come A livello dirigenziale Tolto Marotta Secondo me Ha Alcuni dirigenti Che non sono capaci A vendere i giocatori Non sono capaci Di dare mercato A questi giocatori Perché All'atto pratico Brozovic L'hai venduto A 18 milioni Più bonus Perché? Perché? Perché non aveva mercato Perché Brozovic Lo voleva solo il Barcellona Che non se lo poteva permettere Dopodiché L'Alnastro Poteva farti Tutte le cavolo Di offerte Che volevi Non al 18 Ovviamente De 18 milioni Di euro Però Con l'acqua Alla gola Tu te lo sei dovuto Vendere Perché? Te lo sei dovuto Vendere Perché non aveva mercato Perché non siete stati In grado Evidentemente Il signor A Io lo chiamo così Per non dire il nome Preciso Che litiga con tutto il mondo Con tutti i giocatori Lui ci litiga Che non riesce Che non riesce a venderne mezzo A una cifra Adeguata Cioè Hanno venduto Tonali 70 milioni di euro Hanno venduto Un giocatore Che ne vale la metà La metà Della metà Di Brozovic Ora non mi ricordo È un giocatore Della Premier League Se non sbaglio 55 milioni di euro In Arabia E Brozovic Ha 18 milioni di euro Con l'acqua alla gola E ti hanno preso pure per il culo È stata una cosa indecente Quella che hanno fatto A giocare a ribasso È stata veramente Un orrore Allora non date sempre La colpa a Zhang Forse la colpa a Zhang La posso dare Perché ancora mantiene Quelli che hanno I santimparati In dirigenza Quello sì Quello sicuramente Perché non si può sentire Che un dirigente Litiga con Caio E Sempronio E Tizio E continua A non saper vendere I giocatori Questa è una cosa Imbarazzante Questo solo lui Riesce a farlo Purtroppo Mister A Mister A Detto questo Ragazzi per oggi è tutto Vi abbraccio forte Come se fossi lì Ricordatevi di condividere Il video Se siete d'accordo Con la mia Analisi E soprattutto Attivate la campanella Per ricevere le notifiche Ogni qualvolta Io pubblico dei video E invitate i vostri amici Nerazzurri A mettere il like E iscriversi al canale Perché a 15.000 Che siamo ancora lontanissimi Ne mancano 10.000 e qualcosa circa Faremo le live Serali Soprattutto Le dirette Nelle partite In trasferta Ragazzi Insieme Però dobbiamo arrivare A 15.000 Se no Non facciamo un etto Questo vi è chiaro? Ok Perfetto Di nuovo Vi abbraccio forte Come se fossi lì Ricordatevi sempre Che la vostra Vi vuole bene E sempre Forza Inter Dan Tchau Grazie.